Quando mi chiedono che cosa avrei fatto se non fossi stato così bravo a vendere e a rendere felici i miei clienti, rispondo che avrei scelto di fare il venditore. Per me non esiste alcuna professione al mondo equiparabile a quella del venditore. Se sai vendere e sei abbastanza furbo ad utilizzare gli strumenti che la tua epoca ti mette a disposizione, non morirai mai di fame e potrai raggiungere qualsiasi traguardo tu possa desiderare. Quello che la maggior parte della gente non capisce è che non viene pagata per il proprio talento e capacità, ma per le ore che dedica alla propria azienda, in altri casi invece per il progetto che riesce a portare a termine. Se sei un venditore invece guadagni per ciò che vali e per questo motivo lo definisco il lavoro più meritocratico e bello del mondo. Grazie a tutti!